ciao a tutte io sono cristiana sono una dottoranda in ingegneria elettronica e oggi sono qui un po per raccontarvi di cosa vuol dire fare ingegneria di com'è l'ingegneria particolare ingegneria elettronica e inizio parlandovi un po di me da dove sono partita ho iniziato facendo il liceo scientifico perché per me la matematica e la fisica erano le materie più belle che c'erano e quindi era una scelta un po inevitabile e mi appassionavano veramente tanto così tanto che ho deciso di scegliere un ambito in cui queste due materie venivano utilizzate per far funzionare il mondo per funzionare oggetti che noi usiamo tutti i giorni e così ho deciso di iscrivermi ingegneria in particolare ho capito che ingegneria elettronica era la scelta giusta per me perché vedere che la base dei computer di maggior parte dei dispositivi che utilizziamo sono delle semplici porte logiche mi ha sconvolto e mi ha stupito tantissimo per cui ho detto devo fare questo e questa è la scelta giusta e come vi ho detto all'inizio però io ora faccio la dottoranda sono una ricercatrice per cui né la triennale né la magistrale mi sono bastate mi sono appassionata così tanto che ho deciso di continuare e ho deciso di lavorare su qualcosa su dei problemi che in realtà ancora non esistono io mi occupo di post quantum cryptography probabilmente nel futuro prossimo purtroppo i sistemi di sicurezza attuali avranno grossi problemi saranno insicuri a causa della prossima grande rivoluzione che affronteremo che saranno i quantum computer e quindi io mi occupo di risolvere questo problema e quindi mi occupo di implementare questi algoritmi per fare sì che siano sicuri che siano veloci che siano adatti alle applicazioni quotidiane per cui noi li utilizziamo come vi ho detto spesso nelle slide precedenti ciò che mi ha portata qui in fondo è stata la passione sono state le materie che più amavo, degli argomenti che mi piacevano e non sono la studentessa migliore che ci sia, nemmeno l'ingegnere migliore che ci sia però so in cuor mio di avere una passione molto forte per quello che faccio di amare quello che faccio, di cercare sempre di dare il meglio ed è un po' questo l'invito che vorrei fare a voi di cercare di capire cos'è che vi appassiona, cos'è che vi piace di non ascoltare anche chi vi dice che non siete abbastanza brave che non siete abbastanza competenti in realtà tutte queste cose quando c'è dell'interesse, dell'amore per ciò che si fa vengono naturali quindi non abbattetevi scegliete veramente con il cuore quello che vorreste fare come ultimo messaggio vorrei semplicemente dirvi perché dovreste scegliere ingegneria e il motivo è semplice noi siamo sempre troppo pochi in questi ambiti però c'è bisogno del vostro talento per plasmare il futuro che ci aspetta quindi spero che sceglierete bene e non vi farete spaventare da chi vi dice che questo ambito è solo per ragazzi ma sappiate che è per tutti, non solo per loro e se doveste avere degli altri dubbi o qualche domanda che mi volete fare a me in particolare vi lascio il mio recapito, scrivetemi pure per qualsiasi cosa a presto, un abbraccio grazie grazie